ciao a tutti bentornati di ieri apple ha presentato i nuovi iphone quindi un keynote noi siamo pronti qua a spiegarvi caratteristiche tecniche e soprattutto prezzi insomma la classica presentazione ma con delle novità finalmente e oramai si vedeva già da tempo in versione di rotta anche cupertino anche apple un po androidiana nel senso tre gamme tre modelli diversi schermi più ampi xs xs max a 6,5 pollici quindi un po una epoca finalmente con un po di umiltà cerca di adeguarsi al mercato di copiare un po ovviamente oramai i metodi e le tipologie d'uso che gli utenti hanno schermi più grandi contenuti applicazioni streaming insomma una mentalità più androidiana nel senso che è stata poi andrò da lanciare per primo po anche con le note questa moda dello schermo più grande questa utilità ormai che c'è in avere schermi almeno da 5,8 pollici in su infatti 5,8 pollici per l'xs che diciamo un po l'x2 e 6,5 per l'xs max quindi schermo ampio poi c'è anche l'xr che la versione più economica che costa circa 889 euro che di economico veramente non ha niente quindi prezzo nota negativa come dissi per samsung in un mercato dove ormai si tende al ribasso si tende al rapporto qualità prezzo a prodotti che hanno hardware display e comunque molta qualità ram prezzi veramente tra i due 300 euro e 150 euro 400 euro massimo qui i brand principali soprattutto questi due samsung apple ancora un po anche lg sony insomma tengono il prezzo la sticella alta anche se da una parte se parliamo di android poi online si trovano a meno apple purtroppo gli sconti sono pochi e quando ci sono sono di 100 200 euro massimo comunque poi andiamo a parlare un po delle caratteristiche tecniche di questi due prodotti bell'xr la differenza che ha uno schermo lcd non ha uno schermo ovviamente a led a oled quindi questa è la prima differenza è un 6,1 pollici quindi dimensione standard è un po un 8 rivisto diciamo certificazione ip67 non ip68 un processore inferiore insomma una versione più economica ma di tutto rispetto un iphone che funziona bene con un hardware e un display ottimi ma con caratteristiche inferiore ai x ovviamente ss max quindi sicuramente una versione che comunque non costa poi così tanto meno detto questo passiamo all xs allora tutte e due le gamme hanno oro grigio e siderale argento quindi quattro colorazioni diverse per quanto guarda l'xs è anche il max 64 giga di memoria interna o 256 o 512 quindi tre tagli la dimensione 143 d'altezza 79 di larghezza spessore solo 7,7 quindi molto sottiri e leggeri 177 grammi l'xs ma il max pesa solo 208 grammi quindi la differenza di peso è veramente contenuta come potete vedere anche qua e 5 8 per l'xs di xs max invece 6,5 pollici sono super retina così chiamati hd a oled tutte e due ovviamente a multi touch hdr 2436 x 1125 pixel l'xs il max e 2688 x 1242 punti pixel quindi ovviamente un pixelaggio molto un po più alto per quanto riguarda l'xs max che ha delle caratteristiche in più e anche ovviamente rispetto all xr che più economico tutti i modelli hanno il true tone hanno un'ampia gamma cromatica non 3d touch e sono tutte e due ip68 quindi resistenti all'acqua il chip è la 12 un processore di nuova generazione neural engine quindi molto potente poi ovviamente hanno i video in 4k tutte e due 1080p 720p 4k fino a 24 fotogrammi per secondo zoom ottico 2x insomma una fotocamera è una videocamera ancora rivista ancora migliori sicuramente comunque un reparto foto video di alto livello anche da questo punto di vista poi per quanto riguarda ovviamente il caricatori wireless sono compatibili ma volevo parlare un attimo ovviamente face time insomma tutte le solite cose che sapete già volevo parlarvi un attimo della dotazione perché in dotazione trovate il caricabatterie e l'airpods quindi le cuffie a fila non troverete sicuramente quelle wireless o qualcosa di più da questo punto di vista si sa che apple non regala niente quindi diciamo una confezione molto standardizzata della del discorso e solita con il caricabatterie e le cuffie perché qualcuno già me l'aveva chiesto prezzi qua è la nota un po dolente anche se devo dire che non sono aumentati diciamo i prezzi dei dispositivi perché sono rimasti in linea con quello che era un po il il mercato precedente allora l'iphone xs costa 1189 partendo dal prezzo dell'iphone x non da 64 giga 1.359 il 256 quindi una follia e 1.589 il 512 quindi prezzi in linea diciamo il prezzo di partenza del 64 giga con l'x gli altri oramente spropositati e comunque prezzi assolutamente molto molto elevati per quanto riguarda l'xs adesso possiamo parlare anche dell'xs max che parte da 1.289 euro quindi qua c'è da tenersi veramente 64 giga 1.289 euro 256 giga 1.459 euro 512 giga 1.689 euro la versione ovviamente stratosferica da 512 gigabyte e cosa dirvi vabbè se volete acquistarvi un iphone forse l'xr è rimasto un po ormai l'iphone economico l'iphone diciamo alla portata di tutti ma con un prezzo che non è alla portata di tutto perché quasi 900 euro a questo punto guardo gli oled secondo me l'errore sta nel non aver classificato l'xr è un telefono da 590 euro 490 euro era l'occasione per fare un iphone molto più economico no invece così lo tieni in una fascia di prezzo ancora alta e magari in voglia di più andare a comprare questi qua oled che hanno dei prezzi veramente sono eccezionali sicuramente il miglior iphone mai concepito il miglioramento dell'x schermo eccellente una fluidità e tra l'altro arriva a breve gli os 12 tra una settimana quindi l'uscita il 21 settembre li trovate tutti tra una settimana disponibili ma come vi dicevo dei prezzi veramente fuori completamente dalla logica umana nel senso partire da 1.100 euro con l'xs per arrivare a 1.490 da 1.200 arrivare a 1.600 euro per il max sono veramente prezzi tecnicamente bocciati super tecnicamente bocciati come voi che siete super tecnicamente fantastici grazie del like delle iscrizioni mi ero dimenticato all'inizio video e quindi e continuate ovviamente così quello che volevo appunto dire era che i prezzi sono tecnicamente ovviamente bocciati perché sono troppo troppo alti anche il note è vero costa 1.000 euro però siamo a vedere il note che è uno smartphone e un phablet eccezionale 1.080 euro online si trova già 800 1200 la versione più corposa da 512 giga di memoria interna a questo punto non è neanche così caro perché se consideriamo che il note parte da prezzi comunque più bassi di iphone di 300 euro delle versioni di punta e online lo si trova già sotto i mille secondo me a questo punto fa riflettere chiaro che questi iphone sono tecnicamente eccezionali ma il vizietto del prezzo apple non se lo toglie assolutamente io sono un pochino diciamo dispiaciuto dal fatto che sia rimasto in linea con l'x però poi facendo modelli con più ram con più ovviamente memoria interna ha dovuto alzare anche la stricella secondo me pregio ovviamente prodotti tecnicamente molto ben fatti materiali al top certificazioni oramai siamo a livelli assolutamente dei top android anche come impermeabilizzazione vecchie chicche che non c'erano poi come materiali e usabilità è ancora forse il meglio iphone in certi punti di vista un us 12 che sarà completissimo però il prezzo da pagare veramente è troppo alto quello che si può sperare che calino ma non caleranno mai come cala l'online di android che dopo un po si può veramente avere a meno quindi chi dovrà passare a questi iphone dovrà sborsare comunque un po un bel po di soldi quindi qui non c'è una via di mezzo o spendi o non li prendi dall'altra parte invece con note 9 puoi spendere un po di meno e avere un prodotto tecnicamente eccezionale quindi diciamo un po loro questi nuovi iphone questo note questo s9 che si giocano un po questo mercato degli smartphone poi ci sono anche le gson insomma tantissimi prodotti validi forse vale la pena guardare nel mondo android che sotto i 400 euro si trovano telefoni eccezionali e quindi quella fascia che cresce di utenti medi che compra oramai telefoni ovviamente che costano meno e danno tanto poi c'è ancora una fascia pregio che va tantissimi che vanno ancora comprare ovviamente i top di gamma cercando di risparmiare poi ci sono irriducibili tecno fan che se ne fregano giustamente si comprano l'iphone da 1200 euro o si compre il note a prezzo pieno ma è giusto così è un mercato che però può soddisfare più fasce non obbliga più a spese folli si può aspettare si potranno avere anche in abbonamento per chi vuole fare gli abbonamenti quindi c'è sempre una via d'uscita voto ai nuovi iphone 9,2 voto al prezzo 2 quindi la media 8 però gli iphone sono oltre il 9 9.2 e il voto generale sono forse i migliori mai concepiti ma con un prezzo peggiore mai concepito come note 9 prezzo più alto di sempre voto 3 ma miglior fablet di sempre voto 9 e mezzo qui sta a noi poi furbamente cercarli a prezzi sempre inferiori ciao e grazie come sempre da 4k si da 4k itec da paolo guala alle prossime ciao